Guardando questa storia di Davide, del Santo Re Davide, chiediamoci se un santo è stato capace di cadere così, ma stiamo attenti, fratelli e sorelle, anche a noi può cadere. Anche domandiamoci, io in quale atmosfera vivo? Che il Signore ci dia la grazia di sempre inviarci un profeta, che può essere il vicino, il figlio, la mamma, il papà, che ci schiaffi un po' quando stiamo scivolando in questa atmosfera dove sembra che tutto è lecito.